Ora, secondo passo, visto che è un creme, colocare lecce, lecce, lecce integrale, o fresco, o UHT, ma lecce di liquido, ok? Quanto? Nel creme, diciamo che come regra base, colocaremo sempre 600 g di lecce, per cominciare, e poi vedremo nella fase di balanzamento se lecce aumenterà o diminuirà, ma come regra base, 600 g di lecce. Ora, lecce che tem, açucar, sì, come potete vedere, a gente, nel nostro metodo particolare, dividiamo gli açucari con la lactose, anche se la lactose è un açucar, ma io non calcolo e la coluna degli açucari, perché la lactose è il açucar che più ricristallizza, è quello meno solubile, quindi io deixo una coluna parte sopra la lactose. Quindi, anche se è un açucar, non colocare nulla, e colocare il che? Il lecce, mediamente, ha un 5% di lactose, 30 g, ossia un 5% di 600 g, e poi, la gordura, abbiamo, sì, 3,5%, mediamente, ripeto, sto parlando di valori medio, 3,5% di quanto? Di 600, abbiamo 21 g di gordura, la stessa cosa per le proteine, ossia, le proteine del lecce è il 3,5%, ok? Quindi, 21 g di proteine, solidi differenti, il lecce è una piccola parte di 6 minerali, ma è 0,6%, 0,6%, non calcolare questa quantità, poi, solidi totali, 72, che è la summa, 21, 21, ma è 30, poi, dopo, abbiamo, claro, perché? Perché abbiamo un açucar, che è la lactose, inton, in quest'anno di dose, la lactose è un dose molto basso, ed è il 6% di peso della, che c'è di sé, che dà 4,8, io collocarei 5. E, un potere anticongelante, visto che è un disaccarideo, ossia, due molecole aggiunte, o dismonosaccarideo aggiunto, è un mismo da saccarosi, inton, 30. Grazie a tutti, grazie a tutti.